allora l'ultimo progetto a cui ho lavorato è stato per la DC Comics ed è stato Aquaman in realtà sto ancora lavorando su Aquaman perché devo fare altri due numeri poi forse in futuro ci saranno anche delle copertine e altri volumi sempre dello stesso personaggio spero di tornare a lavorare su Batman e vedremo io non ho in realtà un personaggio specifico su cui vorrei lavorare per cui alla domanda cosa ti piacerebbe disegnare mi verrebbe da rispondere non lo so cioè nel senso non ho un personaggio specifico che adori particolarmente sono tanti in realtà personaggi che amo che sia del mercato americano che sia del mercato francese non ho una grande come dire non sono predisposto verso un personaggio specifico in realtà mi piace variare molto quindi spero in futuro di disegnare varie cose differenti progetti cancantiere dunque ne ho diversi in realtà che non riguardano soltanto i fumetti il mio sogno più grande sarebbe quello di lavorare con il cinema e diciamo che ci sono delle occasioni che si sono presentate e che spero si concretizzeranno a breve e quindi non posso dire più di tanto perché sono vincolato dal segreto di questa cosa però ecco questa è la risposta la domanda cosa dovresti fare in futuro cosa ti piacerebbe che si concretizzasse in futuro